Ha preso il via il bando per il finanziamento di progetti di ricerca per l'innovazione scientifica tecnologica grazie al programma operativo regionale FSE 2014-2020. Con questo strumento l'assessorato della pubblica istruzione della regione intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi di crescita intelligente e sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione individuati dalla strategia Europa 2020. Le proposte dei progetti destinati ai residenti in Sardegna che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca in Italia o all'estero dovranno essere presentate da università statali e università non statali legalmente riconosciute dal MIUR, istituti di istruzione universitaria e ordinamento speciale, istituzioni di formazione e ricerca avanzata, enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione con almeno una sede formativa in Sardegna. Saranno finanziati i progetti di ricerca di durata triennale in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della specializzazione smart regionale.